Grazie Presidente. Ieri sera abbiamo assistito con sconcerto ad un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, nella quale il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha avuto il coraggio di sostenere che tra i nostri militari non esiste alcun problema di uranio impoverito. Questa mattina, ancora scossi dalla gravità di una simile affermazione, ci siamo svegliati con la notizia della 331esima vittima. Un tumore fulminante ha stroncato nel giro di pochi mesi la giovane vita di Gennaro Giordano, 30 anni, lascia la moglie e una figlia. Oltre 3.000 sono i nostri militari colpiti da patologie oncologiche riconducibili all'esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti come l'uranio impoverito, cui sono esposti durante le missioni internazionali a cui partecipano, oppure a vaccinazioni scriteriate. Tutti gli eserciti degli Stati, i nostri alleati, difendono con adeguate strumentazioni i loro militari. Noi no. Alle sofferenze della malattia aggiungiamo anche l'indifferenza di uno Stato che gli nega qualsiasi tipo di assistenza. L'unica possibilità per avere giustizia è una lunga trafila giudiziaria. Negli ultimi anni sono state emesse le prime sentenze definitive che sanciscono il nesso tra esposizione e patologia. Proviamoci, ma soprattutto provate per un attimo a mettervi nei panni dei 331 militari morti tra atroci sofferenze. L'unica loro colpa è stata quella di fidarsi di uno Stato che non li ha tutelati e nel momento più delicato li ha abbandonati. Le vergognose dichiarazioni del Ministro Pinotti alle Iene rappresentano l'ennesimo oltraggio alla loro memoria. Presidente, nei prossimi giorni, insieme ai miei colleghi della Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito, valuteremo le azioni parlamentari da intraprendere per tutelare la dignità di queste vittime, così gravemente vi li pesa dal Ministro della Difesa. Grazie.